Salve a tutti e a tutte. Questa è una nuova intervista di FPA ai suoi partner. Sono le aziende che lavorano per il cambiamento del settore pubblico in ottica di efficienza, sostenibilità e semplificazione. Qui con me oggi c'è Andrea Piccoli di DeGroove. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao Eleonora e benvenuti a tutti. Andrea è Advisory Chief Digital Officer di DeGroove che è un nostro storico partner e in particolare quest'anno DeGroove sarà con noi sui tavoli di lavoro che organizziamo ormai da diversi anni con gli operatori pubblici. Questi tavoli di lavoro toccano diversi ambiti della digitalizzazione pubblica e oggi DeGroove sarà in particolare quest'anno con il tavolo e degli RTD dei responsabili alla transizione digitale. Ed è proprio su questo Andrea che ti chiedo una tua prima riflessione. La figura dell'RTD in questo particolare momento storico, ricordiamo, insomma ci muoviamo all'interno di una cornice complessa che è quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma la figura dell'RTD è sempre stata un po' in bilico tra l'innovazione, l'organizzazione, anche di prassi consolidate. Quindi secondo te quali sono le sfide oggi per una figura come questa? Guarda, il responsabile della transizione digitale è un po' come un timoniere della pubblica amministrazione chiamata a traguardare gli obiettivi della strategia PA 2026 per la digitalizzazione. È un po' come il timoniere, non è un uomo solo però al comando dell'amministrazione digitale nel tempestuoso mare della sua trasformazione e il suo primo traguardo è quello di costruire un gruppo di lavoro multidisciplinare che gli consenta di condividere e creare consenso interno, elemento che è necessario alla trasformazione digitale per vincere le resistenze al cambiamento che spesso sono molto forti all'interno dell'organizzazione, non solo perché veniamo da una storica normativa di tipo amministrativo legata al documento, inteso come una rappresentazione scritta di atti e fatti, ma anche perché le prassi amministrative sono spesso consolidate e non sempre più attuali rispetto all'evoluzione normativa, perché siamo in un momento in cui la normativa sulla digitalizzazione è estremamente dinamica. Basta pensare, e lo cito solo così come passaggio, che solo nel 2021 sono ben sette i decreti legge che hanno modificato il CAD, quindi quello che è il codice dell'amministrazione digitale, che dovrebbe essere in quanto codice una specie di pietra migliare, in realtà già solo in un anno è stato toccato sette volte. Sette volte perché la digitalizzazione sta continuamente cambiando e tant'è che poi siamo in un regime di continue linee guida emesse da Agide e a partire da quelle fondamentali della formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali che sono entrate in vigore a gennaio, ma tantissime altre linee guida dall'interoperabilità, alla sicurezza, all'identità digitale che stanno accompagnando questa trasformazione. quindi la normativa è in continua mutazione, è in continuo aggiornamento, è un po' un mare in tempesta e la pubblica amministrazione deve fare un passaggio fondamentale, passare dalla cultura dell'adempimento amministrativo a quella di essere una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini, dei professionisti e delle imprese. Ma innovare implica cambiare, sono due conseguenze i due verbi e cambiare significa saper guidare il cambiamento, il che richiede doti manageriali di gestione di progettualità e di leadership, ovvero la capacità di coinvolgere e lavorare insieme con tutta l'organizzazione per perseguire gli obiettivi. Per gestire i progetti orientati alla compliance, ovvero alla capacità dell'organizzazione di esprimere la propria azione amministrativa digitale in un modo efficiente ed efficace, preservandone però le caratteristiche di leicità, proporzionalità, trasparenza e sostenibilità, è necessario adottare un approccio basato sui rischi. Non si può quindi che partire dagli obiettivi delle parti interessate, ma chi sono le parti interessate se non i cittadini e i loro diritti alla cittadinanza digitale, sanciti proprio dal codice dell'amministrazione digitale e ulteriormente sottolineati dal proprio imminente e recenti linee guida di Agile. Le imprese e i professionisti che sono il cuore pulsante del motore economico nazionale. L'amministrazione stessa è una parte in causa chiamata ad agire e a porre in primo luogo la propria azione amministrativa. Ed è a partire dagli obiettivi che vanno individuati quali sono i fattori che portano l'incertezza nel loro raggiungimento e quindi di conseguenza i rischi che vanno misurati e mitigati con misure che sono sia tecniche che organizzative. Deve quindi esserci un'azione di miglioramento continuo che valutando i risultati conseguiti nel periodo precedente e gli obiettivi perseguiti ne guida la successiva evoluzione. Ed è proprio questa visione che noi porteremo come elemento di confronto e come contributo nel tavolo organizzato proprio dal forum PA nel prossimo maggio. Perché vogliamo un po' confrontarci sugli aspetti proprio di guida dei progetti di transazione digitale in cui non solo le soluzioni ma anche gli aspetti organizzativi e di leadership che citavo prima sono gli elementi cruciali, fondamentali per trovare il giusto compromesso tra i tanti aspetti che la trasformazione digitale implica. Andrea tu hai parlato di gestione documentale, voi su questo avete una grandissima esperienza. Proprio all'interno della cornice normativa che anche tu hai citato, a cui aggiungo il piano triennale, la strategia PA. Quali sono e come, quali sono gli strumenti e come lavorare in materia di gestione documentale? Guarda, il piano triennale è proprio un ottimo esempio di approccio al miglioramento continuo. Perché, che ho appena descritto prima, perché è proprio un manuale di ispirazione per la RTD. È lo strumento con cui Agit ogni anno misura gli obiettivi di digitalizzazione raggiunti nell'anno precedente e individua gli obiettivi da traguardare nei due anni successivi. La strategia PA 2026 che tu citi è individuata all'interno dell'Italia 2026 come attuazione delle misure del progettuali finanziate all'interno del piano nazionale di ripartenza e resilienza. Ripartire è essere resilienti, cioè essere in grado di trasformare i propri servizi reagendo alle mutate condizioni. Questa è la strategia, il piano che noi dobbiamo perseguire. Dal punto di vista della digitalizzazione dell'azione amministrativa, questa non può rendersi esime esime da rendere digitale la gestione dei documenti. Anzi, meglio dire, la gestione delle informazioni amministrative digitali. Perché proprio stiamo uscendo da un paradigma di documento inteso come forma scritta per andare verso delle informazioni digitali che ci scambieremo su dei mezzi digitali, facendo degli strumenti digitali, in cui gli atti e fatti giuridicamente rilevanti non saranno più necessariamente scritti su un PDF, ma saranno informazioni digitali che vengono scambiate e comunicate attraverso i sistemi. Quindi le soluzioni di gestione documentale e di protocollo informatico che noi tradizionalmente da decenni, ormai dall'anno 2000, portiamo ed evolviamo sul mercato, sono chiamate a una forte evoluzione funzionale e architetturale. Perché dovranno essere pronte per il cloud, dovranno guidare ed assistere gli utenti nella metadattazione, ovvero nella descrizione delle singole informazioni amministrative e delle loro aggregazioni. Perché le aggregazioni di queste informazioni sono la traccia dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione. Dovranno essere soluzioni interoperabili in maniera nativa digitale, mettendo al centro le informazioni e le transazioni, le trasformazioni di queste informazioni con le altre pubbliche amministrazioni, andando a creare forse uno scenario inedito di cooperazione amministrativa tra le pubbliche amministrazioni. Dobbiamo smettere di scambiarci dei documenti e cominciare a pensare di scambiarci dei procedimenti, cioè di cooperare al fine che il cittadino, l'impresa abbia un unico punto di accesso. Cooperazione amministrativa che però passa per mettere al centro la descrizione di queste informazioni, appunto perché stiamo passando dalla forma scritta che tutti sapevamo leggere a delle informazioni digitali che devono riferirsi a schema condivisi, a metadati condivisi e a descrizioni ricche. Ed è, se vuoi, proprio anche il tema del domicilio digitale si incastra qui dentro perché alla fine il nostro domicilio digitale, la nostra identità digitale diventeranno il punto focale della metadattazione dei documenti, delle informazioni e dei procedimenti, delle loro aggregazioni, perché altrimenti non sei in grado di assegnarle, diciamo, al soggetto a cui si riferiscono. Bene, pensa che tutto questo patrimonio di informazioni digitali scambiate, su cui cooperiamo, che sono metadattate, che sono aggregate, sono proprio il patrimonio che noi dobbiamo portare nella conservazione digitale, perché lo scopo della conservazione digitale è preservarne l'integrità, la leggibilità, ma soprattutto la memoria amministrativa della pubblica amministrazione. Quindi c'è un forte ripensamento di quella che noi siamo abituati a chiamare gestione documentale, ma che forse dovremmo, nei prossimi anni, iniziare a chiamare gestione delle informazioni amministrative, apposta perché è cambiato il Parc Dima e dobbiamo essere pronti a questo cambiamento. Allora Andrea, tu hai parlato appunto di trasformazione e anche di servizi, in particolare a questo punto io ti chiederei un commento sullo sportello digitale unico, che è un progetto cruciale, da qui al 2026 si lavorerà sullo sportello digitale unico, ma vorrei che tu me lo raccontassi e soprattutto mi dicessi perché è davvero così importante? La trasformazione digitale, come dicevo prima, ha l'obiettivo di porre al centro dell'azione amministrativa i cittadini, i professionisti e le imprese. L'azione amministrativa deve quindi essere interoperabile e cooperativa, l'ho appena detto prima, tra le pubbliche amministrazioni, ciascuna operante per le proprie competenze individuate e della propria missione. A questo punto serve però un unico punto di accesso digitale per i cittadini, le imprese, i professionisti, dei propri documenti e delle proprie pratiche amministrative. Ovviamente punto d'accesso unico che deve essere integrato con la propria identità digitale e che deve essere lui stesso interoperabile non solo a livello nazionale, ma anche a livello del single digital gateway europeo previsto dalla Commissione europea per la strategia del mercato unico. Quindi lo sportello digitale può rivelarsi anche lo strumento fondamentale visto dall'interno per raccogliere tutti i documenti amministrativi che sono generati internamente nella pubblica amministrazione da diversi gestionali verticali. Noi operiamo nel mondo della sanità, pensate a tutto il tema della sanità pubblica in cui le ASLE e magari anche il comune come ente territoriale dialogano con le imprese per le varie autorizzazioni eccetera. Ma questi non necessariamente sono tutti documenti che transitano dal protocollo informatico, dalla gestione documentale. Quindi all'interno delle amministrazioni abbiamo diversi verticali che si occupano dei diversi strumenti che generano documenti amministrativi. Lo sportello digitale unico diventa visto dall'interno della pubblica amministrazione uno strumento aggregativo. Aggregativo rispetto a cosa? Ai soggetti digitali, cioè alle identità digitali e ai domicili digitali dei singoli soggetti a cui si riferiscono. Ma è chiaro che per fare questo bisogna che intanto gli strumenti interni, i silos verticali, si interfaccino con la piattaforma nazionale dei dati e la NPR per quanto riguarda appunto la gestione delle anagrafiche dei domicili e dei soggetti. Ma ancora di più diventa anche a questo punto, visto che lì abbiamo aggregato tutti i documenti, li abbiamo un po' veicolati in maniera digitale appunto verso questi soggetti, diventa anche forse la porta d'accesso per tutto il tema delle notifiche digitali. Quindi probabilmente se io dovessi immaginare una soluzione che porta all'interno di una pubblica amministrazione, tutto il tema delle notifiche digitali verso la comunicazione ai domicili digitali dei soggetti, se ho costruito uno sportello unico forse quello diventa anche lo strumento preferenziale ed è facile ipotizzare che a quel punto potrei attaccarci anche la PIO come strumento per la consultazione o la veicolazione di queste informazioni. Adesso col Green Pass e prima ancora con i vari bonus tutti quanti ci siamo abituati ad usare la PIO come strumento per ricevere alcuni documenti digitali, anche il bollo dell'auto che scade adesso ti arriva sulla PIO. E quindi come vedi in questa semplice risposta ho toccato almeno 5 o 6 misure previste da strategia PA 2026. Il fatto è che questi progetti devono essere pronti a breve perché abbiamo tempo fino all'estate di quest'anno per presentare dei progetti all'interno di strategia PA per 2026 o aderire ai diversi bandi e dentro ottobre gli RTD devono avere individuato tutte le risorse necessarie nel 2023 quindi per l'anno successivo per attuare il piano triennale di digitalizzazione del loro ente altro che non è la diciamo la derivazione da quello nazionale di Agida. Quindi i tempi sono molto stretti e quindi bisogna davvero da parte degli RTD interessarsi a questi progetti perché sono occasioni uniche per avere poi dei finanziamenti e per veicolare attività che siano in un filone di strategia nazionale evitando quella dispersione che purtroppo nel passato ci ha spesso fatto perdere risorse, tempo e risultati conseguiti insomma. Sì Andrea guarda in chiusura perché ci avviamo ormai verso le conclusioni di questa nostra chiacchierata infatti ritorno sulla figura dell'RTD che è una figura cruciale e soprattutto che ricordo che vi incontrerete insomma ci riuniremo a Forum PA 2022 ok? In programma dal 14 al 17 giugno. Ritorno appunto su questa figura e in particolare riprendo un tema che a noi è molto caro quello del riuso. La pubblica amministrazione non ne fa pienamente uso come dovrebbe e quindi questa è un'altra sfida che ha davanti l'RTD. Perché l'RTD a tuo avviso dovrebbe scegliere il riuso, dovrebbe orientarsi al riuso? Perché il riuso non è solo riutilizzare del codice, cioè purtroppo un po' per gli articoli 68 e 69 del codice di amministrazione digitale, un po' per le linee guida agite che erano state emesse e comunque il riuso è uno degli obiettivi del piano triennale, quindi insomma c'è forte sforzo per farlo decollare. Il riuso non è solo un tema applicativo, anzi forse è l'ultima diciamo punta dell'iceberg il tema applicativo. Il riuso serve a creare delle comunità di riferimento, delle comunità che non condividono semplicemente il fatto che tutti quanti usiamo lo stesso software e che tutti quanti investiamo per il suo miglioramento, la sua manutenzione, la sua evoluzione, ma anche perché dobbiamo condividere delle buone pratiche e proprio quella e anche quelle misure, cioè quel approccio multidisciplinare alle sfide della trasformazione digitale che citavamo all'inizio. Quindi deve essere il posto che aggrega delle comunità, perché altrimenti l'RTD si sente solo. L'RTD spesso si sente un po' abbandonato all'interno della pubblica amministrazione nella sua missione, nella sua grande guida di questa barca nel mare tempestuoso, è spesso da solo al timone e quindi creare delle comunità e quindi muoversi in una flotta assolutamente è uno strumento importante per condividere sia difficoltà, sia risultati, sia approcci. Poi i temi applicativi arrivano diciamo come conseguenza, poi queste azioni si traslutano anche in strumenti informatici e sicuramente il riuso al pregio di creare un bene comune. Quindi è nato diciamo nello spirito dell'open source proprio come strumento per capitalizzare e creare un bene comune all'interno della pubblica amministrazione che riutilizza delle soluzioni. Però dal punto di vista dell'RTD non è solo il fatto dell'applicazione, non è che perché ho risparmiato qualche licenza e ho investito nel creare una soluzione migliore che mi dà dei risultati, ma è proprio il confronto, la partecipazione a quella che noi chiamiamo gabina di regia del riuso, cioè alla comunità di riferimento che sta dietro, che è il vero valore che aiuta l'RTD a perseguire i suoi obiettivi. Grazie mille. E anche di questo parleremo a fare un piano. Infatti, infatti stavo per chiudere dicendo che hai lanciato già le parole chiave dell'edizione che ci aspetta a giugno. Collaborazione, lavoro, networking, che poi alla fine ruotano intorno allo stesso concetto. Cioè, se vogliamo veramente arrivare a un cambiamento, dobbiamo affrontarlo insieme e lavorare insieme. Io ti ringrazio Andrea. Grazie a voi. Grazie. E do appuntamento a chi ci segue a Forum PA 2022. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.